Perché una turbina si guasta? Un saluto a tutti da autogold.it, parliamo di guasti alla turbina, non stiamo naturalmente parlando di difetti di fabbricazione, quelli naturalmente possono accadere con qualsiasi tipologia di prodotto o di componente, parliamo proprio di guasti dovuti nella maggior parte dei casi a carenza di lubrificazione, quindi magari si ha un veicolo perfettamente funzionante, poi dopo 100.000-200.000 km improvvisamente c'è un guasto alla turbina. La turbina si guasta per carenza di lubrificazione, per carenza di lubrificazione intendiamo ad esempio cambi di olio motore troppo spostati là nel tempo con intervalli cioè troppo lunghi, quindi il nostro consiglio è innanzitutto di eseguire un cambio olio ogni 15.000 km o comunque al massimo ogni 18 mesi, quindi non superate questa durata dell'olio, qualsiasi olio stiate utilizzando, anche oli cosiddetti long life. Quindi la prima cosa è sostituire l'olio ad intervalli molto puntuali, molto regolari e utilizzate naturalmente oli di alta qualità. Soltanto un olio di alta qualità riesce a garantire per più tempo le prestazioni lubrificanti dell'olio, quindi è importante la qualità del lubrificante. Poi se volete dare ulteriore protezione alla turbina è molto utile utilizzare anche additivi antiattrito. Gli additivi antiattrito di qualità, facciamo un esempio ZX1, ma non solo lui, c'è anche Warm Up Gold Formula, Valen SV, Sintafron Protector Racing, Ceratec e così via, garantendo una protezione costante sui metalli, garantiscono una protezione appunto costante nel tempo e indipendente dalla lubrificazione, cioè dal fluire dell'olio. Quindi anche a freddo, quando avvierete il motore, c'è questa protezione antiattrito che è sempre operativa. Cosa accade quando l'olio viene sostituito ad intervalli troppo lunghi? Con intervalli troppo lunghi l'olio motore degrada, perde le sue caratteristiche, non è in grado di fluire come si deve, non è in grado di avere le prestazioni antiattrito o detergenti adeguate, perché appunto degrada, cioè perde le sue proprietà che aveva inizialmente quando era nuovo. Quindi, riassumendo, la carenza di lubrificazione porta ad una maggiore usura del motore e della turbina, e in generale di tutte le parti lubrificate, quindi anche del turbo, le parti lubrificate del turbo, ciò crea mano a mano, lentamente, gradualmente, una maggiore usura metallica fino al crack, diciamo così, definitivo, cioè al guasto meccanico. Ci sono turbine che possono durare davvero molti, molti anni, anche centinaia, centinaia, migliaia di chilometri, se si ha una manutenzione puntuale. Quindi, se vi si rompe la turbina a 100.000 chilometri, normalmente non è la sfortuna, ma è semplicemente una mancata manutenzione molto puntuale. Le case costruttrici a volte indicano di sostituire l'olio motore ogni 30-35.000 chilometri, è un'indicazione assolutamente inadeguata, anche in presenza di oli motori di alta qualità, come ad esempio Royal Purple, consigliamo comunque una puntualità molto rigorosa nella sostituzione dell'olio motore. Per concludere, è molto utile anche eseguire la detergenza interna del motore del circuito di lubrificazione, tramite additivi specifici, che possono essere utilizzati normalmente ad ogni tagliando, a partire all'incirca dai 30-40.000 chilometri di percorrenza in poi. La pulizia del motore è molto utile, non solo per liberare, diciamo, il motore, il circuito di lubrificazione, da morchie, incostrazioni e così via, ma la cosa molto importante da capire, è che la pulizia del motore prepara al meglio il terreno per la successiva emissione del nuovo olio motore. Cioè, il nuovo olio motore si troverà a fluire su superfici metalliche perfettamente pulite del motore e della turbina, per cui garantirà la massima protezione. Per qualsiasi necessità di ulteriori consigli e chiarimenti, naturalmente siamo a disposizione. Nel nostro store autogold.it sono disponibili centinaia di prodotti chimici, tassativamente tutti di massima qualità, e spediamo in tutta Italia e in tutta l'Unione Europea. Grazie per aver visto questo video, ci vediamo ad un prossimo filmato.